Cari amici, per fortuna che c'è la sinistra, la sinistra dei saputelli, quelli che ci spiegano con 50 anni di ritardo quello che sta succedendo nel nostro paese. Queste persone fino a poche settimane fa ci hanno detto che c'era l'allarme populismo, l'allarme sovranismo, che Salvini era cattivo, che Renzi era buono, che l'Europa era buona e così via. Queste stesse persone oggi con la stessa Sicumera ci vengono a dire che tutto sommato l'Europa non è così buona, tutto sommato il sovranismo, se inteso come forma di patriottismo, non è affatto sbagliato e ci vengono a dire che Matteo Renzi non era niente altro che il cagnolino di quel sistema economico e finanziario che la sinistra descrive come neoliberismo e che solitamente accusa di essere il male assoluto. Allora partiamo dal libro di Federico Rampini. Federico Rampini è cresciuto con Enrico Berlinguer, ora scopre all'improvviso ciò di cui tutti si erano già accorti fin dal 1989, cioè che la sinistra non ha uno straccio di idea sul futuro, che si è rifugiata nel culto delle minoranze e dei diritti civili perché non ha una visione della società nel suo insieme, il Partito Democratico è diventato il partito dello spread e quindi è diventato sordo alle esigenze della maggioranza degli italiani. Tutte cose che per un verso Augusto Del Noce aveva già scritto addirittura all'inizio degli anni sessanta e che un sociologo, un bravissimo sociologo di sinistra francese, Christophe Willi, ha scritto già da circa vent'anni. Però adesso che ce l'ha detto Rampini siamo tutti più contenti. Oltre a Rampini c'è, oltre al libro di Rampini c'è anche il libro di Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera, che è più europeista degli europeisti più convinti. Federico Fubini adesso pubblica un libro che si intitola Per Amor Proprio in cui ci spiega che l'Europa, sì, deve marciare unita per resistere al potere imperiale di altre potenze come la Cina, ma che tutto sommato noi dovremmo essere fieri, noi italiani, dovremmo essere fieri di quello che siamo e dovremmo cercare di farci ascoltare di più in Europa. Beh, da trent'anni ci verrà a dire che l'Unione Europea ha una struttura, lei sì, imperiale, e profondamente illiberale. Nel frattempo noi ci limitiamo a ricordare che queste cose le aveva già scritte in presa diretta Ida Magli, ben più di vent'anni, forse trent'anni fa. Infine la Cigliagina sulla torta, perché all'inizio di maggio esce il libro di un libro che non ha paura di sferzare i poteri forti che si sono allontanati dal popolo, insomma le famigerate élite che si fanno i fatti propri e che hanno causato per questo la deriva populista. Ebbene, ma chi è questo eroico autore che arriva quasi 40 anni dopo i libri fondamentali di Christopher Lash proprio sulla ribellione dell'élite? È Ferruccio De Bortoli, cioè un uomo del tutto estraneo all'élite, personaggio escluso dal mondo del potere, e meno male che lui ha scritto ci salveremo in uscita per Garzanti. Ho finito, ci vediamo tra 40 anni per i saggi della sinistra che ci spiegheranno i danni dell'immigrazione incontrollata e la rabbia dei perdenti della globalizzazione.